Vai Erbio, grazie Angelino vieni qua che ti riprendo, Angelino guarda qua, saluta Ciao, auguri anche a te Gli ho detto però quando c'è il possesso no perché gioco solo dietro Saluta Pila dai Questo, questo Saluta oh, saluta Il tuo padre l'ha visto? No, ancora no Un po' di cabeza per lei Maradona Una cam Mamma mia Non c'e' la mano Non funziona l'indiettivo Non c'è la mano Telecamera o auricolare? No, non c'è la mano Saluta Pala di Vene qua 3 e 3 avanti e ritorno 3 e 3 avanti e torno non cazzo la telecamera dopo ma nel possesso non lo uso aranza fuori 4-5 volte facciamo sempre qualche saltello partiamo da dietro la linea facciamo quattro salti andiamo andiamo dall'altra parte vai facciamo ancora due progressioni uno per ogni cinesino rosso non c'è pittà che tirerà su questo come faccio? mi interessa però è l'ordine allora qui la Dima partono e fanno un passaggio a quello che è che devono entrare dentro la parola dei due qualetti e giocano vale vale entra sempre dentro la porta successiva quella dopo palleggio o passaggio? palleggio ha detto passaggio entra sempre dentro la porta successiva ok quando arriva Eli e Pietre quando arrivano Eli e Pietre prendono conduzione dentro cagoma cambi direzione ti riprendo bene guarda quelli no dai occhio no no vieni vai 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 palleggiare palla su tre quattro cinque palleggi passo la palla no vuoi non filmarlo? no lo prendo quando parti palla sempre alta andiamo in volo quattro cinque gioco controllo quattro cinque gioco andiamo bravo fermi giù fermi giù e vai fuori giù e vai fuori giù tanto si asciuga ah questo questo deve tagliare o polcini eh ok che lo sta più bello fuori poscia serena vai pila bravo 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 che deve mai cadere pila via via pila li diciamo di tagliare guardiamo un po' guarda balle, prendi i balli bene e e rischio guida e che vuoi trending fuoo uh sursi da kal ciarmai le sor Marco Grazie Saluto Sì, grazie Paolino, paolino, saluto andi a far vedere che benzi si ho fatto Tutti ma Musa Saluto qua ragazzi Pietra vieni qua Saluta Pietra Ti spiego un secondo Aspetta Ergericiu sei scarso Chi ha viaggiato ieri da una parte Metti qua il terzino Saluto Il terzino, il top terzino Top terzino a Serie C Vi è dato a superare Vai tu Dai maestro Vediamo Opla No no Lascio 10 metri Vieni Vieni via Vieni 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 Vieni